Per esempio, bevi, che facile, hai 5 cani e poi le ricondizioni, come prima? Tenete il nome così lo so. Io non ci facciamo le X, di quelli che chiamo, ci faccio ancora, però. Anche perché sennò c'è la nostra vita, non mi costruisco. No, ma se vuoi segnarti una volta, qui non puoi tenerlo, è fuori... No, no, c'è il numerino che non hai visto. Sì, no, no, solo sul tavolo, la busta, sul tavolino con i tre tavolini di fianco alla porta del bar. Grazie. 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 Grazie.